Ragazzi, eccoci di nuovo qua nel box. Purtroppo continuiamo il nostro periodo di quarantena e vi faccio vedere qualcos'altro. Uno dei prodotti che ho iniziato a scoprire negli ultimi mesi, in particolare quando Andy Neal e Steve Gardner sono venuti per l'International Milo Day e ho avuto modo di scoprire qualche chicca in più sui prodotti della Bytec. Bytec la conoscete tutti, è un marchio inglese specializzato soprattutto negli sfarinati, distribuito da Milo da diverso tempo e soprattutto con successo. Effettivamente negli ultimi anni Bytec ha avuto un'importanza anche nel mondo della pesca italiana. I pellet li conoscete tutti, lo sticky method, il carp and course, krill, dei pellet che vanno benissimo per la pesca nelle acque commerciali ma anche in ambiente libero. Cosa ho scoperto, cosa ho imparato qualcosa di più nel mese di novembre? Ho imparato a conoscere i liquidi. I liquidi della gamma Bytec sono diversi liquidi, è una gamma ampia, molto molto interessante. Qui ne ho una piccola collezione, ne mancano ancora altri perché andate magari sul sito della Bytec per vederli, per vedere la completa gamma. Cosa vi faccio vedere oggi? Vi faccio vedere le differenze tra i, vi spiego velocemente le differenze tra i vari liquidi che ho in questo momento in mano, poi se riusciremo faremo un video fatto bene naturalmente in ambiente libero in cui li utilizzeremo anche in pesca. Per prima cosa cosa vi dico? Che i liquidi della Bytec sono liquidi che servono sia per potenziare l'attrattività della pastura, quindi si possono bagnare le pasture, naturalmente utilizzando una piccola percentuale mischiata con dell'acqua, oppure anche per aumentare l'attrattività delle esche. Esche che possono essere boilers, dumbbells, pellet, mais, ma anche esche vive come bigattini, vermi, le camole. Quali sono i liquidi che ho qua? Allora, partiamo da un liquido che va bene per i ciprinidi soprattutto, liquido dolce, scolo stroberdi, quindi alla fragola, poi abbiamo il cocco e il liquid plum che è pesca. Come li possiamo dividere? Allora, lo stroberdi è un liquido che può andare molto bene per la pesca magari delle scardole, oppure anche del cavedano. Il cocco invece è un liquido che io utilizzerei soprattutto quando devo fare delle sessioni di pesca alla Brem, anche perché ricordiamoci che il cocco è uno degli ingredienti principali presenti nelle pasture da Brem, insieme naturalmente anche al caramello. Diciamo che ci sono più correnti di pensiero a riguardo alla pesca alla Brem, uno è legato al cocco, uno è legato al fish meal e uno è legato al caramello. Il cocco comunque è un'ottima idea, è un liquido bianco, qui non lo potete vedere perché non è trasparente come gli altri. E poi abbiamo il plum che invece è un altro liquido che potrebbe andare bene per potenziare magari le esche, quando si va a fare una pescata carassi alle carpe, mi viene a pensare magari il cavo lama, oppure anche per bagnare i bigattini. Avete presente quando anni fa prendevamo i bigattini, li lascevamo nell'acqua aromatizzata, magari con dell'orzata? Ecco, lo possiamo fare anche con questo, lasciandole tutta la notte a bagno in una piccola bacinella, che in questo momento non ho, però una bacinella normale, anonima, ci mettiamo dentro un po' di liquido, mettiamo dentro un po' di acqua e poi lasciamo affogare i nostri bigattini. Quindi vivi o morti non cambia niente. Un altro liquido che non è dolce, penso che sia salato, non l'ho mai assaggiato, è il liquid warm, che è un liquido al verme. Questo io lo vedo perfetto proprio per la pesca della brem, per i carassi, per aromatizzare anche in questo caso le pasture, per aumentare e potenziare l'attrattività delle pasture, o anche, io lo utilizzerai anche in un ambiente come Adria, oppure anche a Pisa, se devo andare a cercare dei pesci gatto. Poi, cosa abbiamo ancora? Ah, abbiamo un liquido puzzolente. Attenti quando lo aprite. Questo è il Liquid Krill & Tuna. Il nome dice tutto. Ce n'è un altro simile, che è il Muscle. È un liquido verdastro e ricorda molto la cozza. Praticamente è come se fosse un molluschi macinati. Ve la dico un po' così, molto alla buona. È un liquido che può andare bene in acqua interna, può andare bene soprattutto per la pesca del pesce gatto o anche della brem, pesci che magari vanno molto su un aroma alla farina di pesce, ma io lo utilizzerai e l'ho visto utilizzare in mare quando si vanno a cercare soprattutto gli sparidi, le orate, i salaghi, le occhiate. Anche il cefalo penso che possa andare bene. Attenzione perché qua dovete bene dosare le dosi, scusate il gioco di parole, però effettivamente l'aroma è veramente forte. C'è scritto anche che è un attrattore molto potente per le carpe. Ci sta, perché effettivamente nel periodo invernale il Fish Mill è uno di quegli aromi che vengono spesso utilizzati nei carpodromi, quindi si potrebbe utilizzare. Però personalmente vi dico provatelo, io lo consiglio molto per il mare. Un altro è il Predator. Qui possiamo uscire dal classico contesto della pesca in laghetto, acqua interna. Oddio, dalla pesca al colpo e all'arfide, perché il liquido al Predator è un liquido molto forte che potrebbe essere utilizzato quando si fanno le pescate alle trote. Se si vogliono potenziare, più che trote, i predatori. Se vogliamo potenziare magari le camole, possiamo bagnare qua dentro. Vogliamo potenziare invece le esche siliconiche quando andiamo a fare la ricerca del perca, la ricerca del persico? Possiamo bagnare le nostre gomme, le nostre esche siliconiche con questo liquido. Non a caso tra le specie presenti sulla copertina abbiamo proprio un persico e un luccio. Va bene anche per i perca però. L'unica differenza che non si può spruzzare, quindi anche in questo caso dovete mettere una bacinella e lasciarle per diverso tempo a mollo in acqua in modo che assorbano l'aroma. Poi abbiamo il liquid pellet. Qui sinceramente non saprei neanche cosa dirvi perché lo potete vedere da solo. Un liquido al pellet è perfetto per potenziare le esche da laghetto, quindi principalmente dumbbells, pellet, mini boilers. Qui è anche ideale per i sacchetti in pivier, quindi ideale per la pesca al pesce grosso. Io vi consiglio di provarlo e potrebbe dare delle ottime soddisfazioni. Infine, infine, ecco questo è particolare, è lo spicy sausage. Se lo aprite non potrebbe anche avere nemmeno di fame perché effettivamente c'è un aroma di canna fumicata. Se vi piace la canna fumicata, questo qua è liquido perfetto, però non è adatto per l'alimentazione umana. Anche se siamo in un periodo di quarantena e cerco da fare la spesa al supermercato, non lo usate comunque se ce l'avete in casa. Ad ogni modo è un ottimo liquido, anche in questo caso viene definito PVA Fiendry, quindi vuol dire ideale per i sacchetti in PVA. Va bene per i pesci di grossa taglia, va bene per la pesca in ambiente libero, specialmente ai grossi pesci gatti. Vi direi anche al Siluro, ma ormai nelle competizioni il Siluro è vietato, però se andate a pescare per conto vostro ci starebbe. Infine, infine, chiediamo con una piccola chicca che sono i nuovi CSL Glug e Dejuice. Sono anche questi qua due attrattori, due potenziatori di esche, fondamentalmente solo per le esche, non è per la pastura. Il Dejuice è un liquido, si chiama Grug, quindi vuol dire gelatinoso, quindi va a coprire completamente la nostra esca. È consigliato soprattutto per la pesca in laghetto, ma comunque tutta la gamma di questi liquidi che vi ho appena fatto vedere, plum, strawberry, krill, worm, sono tutti liquidi che potete provare in tutti gli ambienti di pesca. Quindi il mio consiglio è quello di provarli e vedere quale può andare meglio rispetto a un altro. Che altro direvi ragazzi? Sono stato forse anche troppo lungo, spero di non avervi annoiato e alla prossima. Ciao ciao!